Un pesce delizioso con un sapore così fresco che non immagineresti mai chi sia stato nel congelatore. Ciò è possibile grazie al sistema di confezionamento sottovuoto Food Saver. Mantiene il cibo fresco fino a 5 volte più a lungo. È così facile da usare. Col solo tocco di un bottone, aspiri l'aria e conservi tutto l'aroma ed il sapore, fino a 5 volte più a lungo. Conserva gli avanzi di cibo ed evita gli sprechi e utilizzalo per conservare gli alimenti liquidi. Puoi marinare il tuo cibo in soli 20 minuti. Usalo per una varietà di alimenti e conserva gli elementi nutrienti e gli aromi fino a 5 volte più a lungo. Gusta quindi il cibo scaldando a fuoco lento nell'acqua la confezione surgelata. Otterrai lo stesso sapore di quando l'hai preparata. Risparmi a denaro, comprando quantità maggiore di cibo ed evitando sprechi. Gusta il tuo cibo fresco. È così versatile e facile da utilizzare. Il sistema di confezionamento sottovuoto Food Saver mantiene il cibo fresco fino a 5 volte più a lungo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.